Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua per andare a parlare con i pochi fan italiani che ho su questo canale, però li ho, quindi sono contento di averli grandi italiani. Sono qua raga, visto che ormai è finito The Walking Dead 10, visto che la puntata 16 è stata temporaneamente cancellata, verrà fatta più avanti, per andare a chiedervi che cosa volete raga, dato che ho chiesto da alcuni, hanno detto che preferiscono The Walking Dead dall'inizio. Va bene, porterò The Walking Dead la stagione 1, tutte le scene più belle raga, analizzo un attimino le puntate, ovviamente non porto la puntata intera, qualche minuto lo taglio, però raga porterò The Walking Dead dall'inizio. Ora la domanda è questa raga, visto che ci sono un sacco di miei scritti che non sono italiani, sono stranieri, preferite che vi porto le puntate in italiano o preferite che ve le porto in sottotitoli in italiano? Quindi sub ita con l'audio inglese. Perché raga vi chiedo questo? Perché avendo anche tanti, dico tanti, tanti, tanti iscritti non italiani, adesso vi faccio vedere raga, vediamo se riesco a vederlo, questo video qua, Negan e Alpha, quello dove Negan uccide Alpha, ragazzuoli, la maggior parte, dico il 75% che l'hanno visualizzato non sono italiani. Quindi diciamo praticamente quasi tutti i miei scritti non sono italiani. Quindi raga vi chiedo questa cortesia, da italiani a italiani, decidete voi raga, se la volete in italiano e ve la porto in italiano. Ho già iniziato a registrarla in subita, ma sono giusto il primo episodio, se lo volete in italiano ve lo porto in italiano, però con meno frequenza. Se lo volete in subita, ve lo porto in subita, con una frequenza altissima, anche un episodio al giorno. Tipo oggi esce l'episodio 1, domani l'episodio 2, domani l'episodio 3. Andiamo un episodio al giorno, quindi nell'arco di non so quanto, tipo 200 giorni, dovremmo aver finito tutto, e dico tutto 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 The Walking Dead. Raga fatemi sapere, comunque questo qua è il primo video che registro da PC, quindi l'audio farà una merda. Ho ordinato un paio di cuffie nuove, quindi raga è un microfono decente, quindi magari per i video da PC sarà un pochino meglio, visto che quelli da play facevano cagare. Raga io volevo dirvi solamente questo, intanto è uscito il video spoiler, ma quando starete vedendo questo video ci sarà caricato già sul canale le parti più importanti della puntata 10x14, visto che sto registrando di venerdì, ma la puntata praticamente domani mattina io ricarico le parti più importanti, che è sabato, cioè stamattina. E vabbè raga, detto questo, io volevo dirvi solo questo, spero di essere tutto chiaro, fatemi sapere se la volete o in sabita o in italiano, io preferisco in sabita, però se io la volete in italiano o la porti in italiano, come l'ho già detto. Detto questo raga, io vi lascio, ciao ciao!